E quindi molte delle cose della fisica di Star Trek puoi prendere il caffè, quasi quasi lo prendo ancora un caffè perché ne ho bisogno, se mi aspettate ancora un minuto vediamo se tiene duro. Grazie a tutti. Ecco qua, ha tenuto duro, oggi super live col caffè, io non vado a nessuna parola, un tazzone di caffè per la stessa tazzina.